E li accogliamo con un bel applauso! Vai vai Montegiano! Ottava edizione di una manifestazione che prende sempre più piede e continua a piacere per la sua essenza e matrice rurale. Sì, noi stiamo preparando la nostra ottava edizione, siamo pronti e abbiamo abbellito il nostro piccolo paesino come si fa a casa quando avviti degli ospiti graditi e quindi noi vi invitiamo a condividere questi due giorni in campagna, dietro l'angolo, per stare un momento insieme e rilassarsi. Il perno principale è la crescia con i Cucon, però insomma ci sono tante cose attorno alle quali ruota questa manifestazione. Sì, diciamo saranno due giornate da vivere già dalle prime ore del mattino quindi abbiamo organizzato oltre alla classica festa popolare tante altre iniziative naturali, sportive, culturali anche quindi partiamo già dal 30 con una bella passeggiata in mountain bike per le colline circostanti, torneo di calcio per i bambini poi per passare il primo maggio con la fantastica camminata naturalistica e poi abbiamo creato un'area per bambini dove mettiamo a disposizione gratuita i giri a cavallo, la parete attrezzata per le rampicate, i gonfiabili e poi ci sarà comunque lei, la principale nostra produzione che è la crescia che abbiamo allestito apposta uno stand dove appunto la fornerino direttamente vi aspettiamo insomma appunto con l'orchestra Iose Lito per il giorno del primo maggio e il 30 aprile con l'orchestra La Tradizione.